Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale live reaction di Inter Torino Sto per andare a San Siro, appunto per la partita di stasera Che attenzione, attenzione perché è ostica, è bella ostica Dimentichiamoci subito il 4-0 in Champions League rifilato alla Stella Rossa E pensiamo alla gara di questa sera che è veramente difficile C'è da portare a casa i tre punti, innanzitutto perché bisogna portarli a casa perché sono fondamentali E soprattutto perché poi c'è un'altra sosta per le nazionali, altre due settimane senza Inter Quindi cerchiamo di andare alla sosta diciamo con una bella vittoria Si va a San Siro, si va allo stadio ragazzuoli Voi come al solito, solite raccomandazioni, mi piace, un bel commento, una bella condivisione del video del canale E se volete trovate gli altri miei social qua sotto in descrizione Ci vediamo direttamente allo stadio, dai ragazzi, dai! A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.